la mia mamma gira bene largo dal cubo bravo dai che mi sta a scendere fai giro per me ti capi ma ogni tanto guardo in basso aspetta vieni pure qua con me vieni freddo quasi indietro le braccia qua sotto ah sotto preferisci che le tengo queste le braccia rimangono qua sotto e allora aspetta perchè qua l'ho tirata fuori esatto 1 2 3 4 6 allora adesso aspetterò un po' di vento che ci facilita il decollo perchè più aria c'è meno dobbiamo correre mi direi il tuo numero 3 2 9 9 8 7 8 2 6 1 allora adesso ti chiedo di fare dei passettini in avanti ogni tanto ci centriamo piano 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 l'ho indietro ti posso chiedere solo un favore? Mi riappi con la parte grigiale lì che sei chiusa? vieni un po' indietro ok ok perfetto così allora la nostra traiettoria di corsa è giusto bene l'alberona che abbiamo la davanti ok Ok, sono a posto? Si, si è a posto, si mette un po' più alta, devono sempre stare dentro qui le braccia? Si, poi adesso ti danno solo per la fase di corsa, poi in volo non ti danno più fastidio, va bene, va bene, ok. Guarda che si sta apparendo. Come la senti tu l'aria? Come la senti l'aria? In faccia, la guardo anche da quella manica vento lì. E tu senti l'aria in faccia? Probabilmente la telecamera guarda troppo in alto, ma... Eh, infatti ogni tanto fai così. Si, ok. Devo stare così, Eskir. Vabbè adesso. Dopo, io sto come voglio dopo. Ogni tanto guarda giù, perché noi vediamo dritto. Sbettiamo giù su un po' di vento in faccia. Quanto tempo ci è in piedi da? Sbettiamo qua, aspettiamo un po' così la truffanza aumenta. Ho abbassato il casco, ti va bene? Potremmo decollare anche così, ma più c'è vento, più abbiamo aria in faccia, più... Ho capito, non ti fidi di quanto sono capace di correre. E di quanto sono capace di buttarmi in avanti. Sì, non troppo all'inizio, eh? No, vabbè, dimmelo. All'inizio iniziamo a camminare, perché se ti butti troppo all'inizio, ti discibola. No, sto aspettando un po' di aria in faccia. Te inizia a andare, tanto in atterraggio te la cavi. No, sto aspettando un po' di aria in faccia. Qua il vento è dritto, non si vuole mettere. Ci dobbiamo buttare senza vento. Dobbiamo decollare senza vento. Durante la fase di corsa, se senti io che ti urlo stop, vuol dire che ho riscontrato un'anomalia nella fase di decollo del parapendio. Non è un problema, rifaremo il decollo. Va bene. Quindi se ti senti urlare stop, vuol dire che ci fermiamo immediatamente di correre. Va bene. Uno, due, tre, via. No, ferma, 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 ferma. Tutto a posto? Sì, sì, tutto a posto. Non siamo riusciti. Non siamo riusciti a partire. Ok. Ce la faccio ad alzarmi? Sì. No, no, non mi sono fatta niente. Non c'è vento, quindi non correvamo. Abbastanza. Abbastanza. Passa la testa. Ok. Ok. Libro da qua. Dobbiamo tornare su? Dobbiamo ritornare su. Ok. Ti devo dare una mano? No, adesso ci penso io. Ferma la macchinetta. È stato il crash. No. Sembrava che si c'è stata. Sì, perché diceva un momento. No, non lo corre. Sì, perché diceva un momento.